Io raccolgo la cacca del cane, mi tocca raccogliere le siringhe, non so di chi, cioè inconcepibile. Chiudetelo, recintatelo, fategli quello che vi pare, metteteci le telecamere, ma datevi una mossa, perché se qualcuno si fa male, cioè non si sa chi dobbiamo denunciare noi. Siringhe usate e buttate a terra e bambini che giocano nei paraggi, uno degli scenari che più spaventa una mamma. Siamo nei giardinetti, antistanti l'uscita delle scuole Corridoni. Corridoni. Arriva anche una volante del commissariato di Fano, allertata proprio dai genitori, che ogni pomeriggio aspettano l'uscita dei propri figli e che mai e poi mai vorrebbero che i bambini vivessero una brutta esperienza. Ma gli agenti di polizia non sono nuovi a questa zona. Già in passato hanno affrontato e risolto situazioni incresciose di bivacco e degrado, allontanando i vagabondi che avevano preso a dimora questo piccolo angolo verde. Ma ora, all'ennesimo ritrovamento di una siringa usata, con l'ago ancora infilato, mamme e papà vogliono che il loro grido d'allarme venga finalmente ascoltato. La cosa triste è che è da settembre e nessuno ci dà ascolto. Le raccogliamo noi le siringhe e le buttiamo nel cestino perché nessuno viene a pulire. Questo è un posto dove i bambini alla fine della scuola vengono a giocare. E dispiace, a me dispiace. Anche perché si può verificare qualche situazione pericolosa, si bungono, si tagliano. I bambini giocano perché all'uscita di scuola, dopo 8 ore di scuola, vengono un attimo e fanno una corsa. Se uno casca e va a inciampare una siringa non è piacevole. E' quella la cosa triste. Vi siete accorgati delle siringhe, le avete buttate. Metti che non ve ne accorgevate, rimanevano lì. Ah, sicuramente. Io due volte che raccolgo le siringhe per terra, cioè prima l'abbiamo detto al comune, l'abbiamo detto in giro, ai vigili urbani, all'ASET. Sembra che non sia competenza di nessuno, ma di qualcuno. Questo parco è competenza, anche perché ci giocano i nostri figli uscendo da scuola. È intollerabile. La struttura al centro dell'area verde sembra essere l'ideale per occultare abiti e masserizie varie nel frattempo che sopraggiunga la sera per crearsi un giaciglio nel cubo di cemento. Non è neanche tollerabile che un giardinetto pubblico diventi il dormitorio di barboni, i drogati o via di sorta. Non è una cosa concepibile. C'è un minimo di sorveglianza. Fatecelo durante la notte, perché lì è diventato proprio un buco che è un dormitorio. O lo chiudono, lo buttano giù, fanno quello che gli pare, fanno diventare tutto giardino verde. Oppure vengano a controllare, anche perché saranno sempre gli stessi che gironzolano qui intorno.